Arlecchino e chi se no sempre lui a muoversi ed aggirarsi e pensare che tutta la mia vita in commedia è nata proprio da Arlecchino mi chiamo Alessio Sapienza sono un attore, un commediante e un mascheraio quando ho iniziato i primi passi verso la commedia c'era proprio lui guardavo l'Arlecchino servitore dei due padroni e vedevo Arlecchino saltare da un lato e un altro del palco e decisi che anch'io volevo far parte di quel magico mondo di Arlecchio e così intravesi il mio viaggio verso la commedia dell'arte incontrando vari maestri da Carlo Boso a Antonio Fava e Trenuccio Soleri e tanti altri fino a intraprendere la carriera di Mastro Mascheraio vedete? e chi sa ancora del mio viaggio dove mi porterà ma noi ci vedremo sicuramente tutti insieme il 25 febbraio per la giornata mondiale della commedia dell'arte a presto!